Adesso diamo la parola a Elisa Badiali che ci presenta la sua ricerca in particolare dedicata, giusto, agli spazi di co-working. Sì, mio hashtag è co-working. Ah, è co-working. E io e mio hashtag... In qualche modo spesso sono anche, mi vengono a dire, punti di caduta, secondo me anche, di tutta una serie di attività, di elementi di innovazione che riguardano anche i nuovi modelli di impresa, diciamo, e la sfida che rappresentano anche per le imprese cooperative e sociali. Sì, più che di caduta forse, come si diceva all'interno dell'introduzione, per dare un po' un quadro di quello che è il nuovo anche concetto di innovazione, più che di caduta sono di generazione di innovazione, perché il concetto di innovazione ormai non deve più essere considerato come una innovazione a livello solo di prodotto e di strumento, quindi solo attraverso la tecnologia innovativa che si usa o del prodotto innovativo che si genera, ma assolutamente l'innovazione diventa fondamentale oggi in termini di processo. E credo che tutte queste forme di cui si è parlato oggi siano innovative proprio sotto questo punto di vista, nel senso che non hanno forse come servizi, piuttosto che come prodotti, non sono tesi a dare una risposta innovativa per quanto riguarda il bene o il servizio prodotto. Ma la questione è la come si è arrivati, quel come di cui si parlava prima, in termini di processo a realizzarli. Il co-working è esattamente uno dei come che viene inquadrato all'interno di questa nuova economia della collaborazione e della condivisione, che cerchiamo di verificare oggi ed io all'interno della mia ricerca ho cercato di fare, di confrontare anche con delle forme giuridiche o comunque di impresa già esistenti per verificare se quelle che sono le caratteristiche nuove, ma anche del passato, di quelle che sono delle forme di produzione, di lavoro, degli stili lavorativi, in questo caso in particolare perché del co-working di questo si parla, ma anche di quelle che sono le novità riguardanti quelle che non sono più le questioni che riguardano solo la logica di impresa. E queste, come vedrete, sono in realtà le caratteristiche fondamentali degli elementi della sharing economy. Come si parlava, allora rimangono tutte delle difficoltà di questione normativa, culturale, che credo in queste sedi sia fondamentale affrontare, proprio perché sono la parte aggiunta, come vedremo all'interno della presentazione, di quello che è uno dei servizi della sharing economy. Il co-working è un fenomeno che io ho studiato grazie alla Fondazione Ivano Barberini, per cui collaboro, e l'Università di Bologna al Cescocom. Perché? Perché è un fenomeno assolutamente attuale qua in Italia, in realtà parte già dal 2004 nella SICOM Valle, ma solo nel 2008 in Italia, e fondamentalmente non è stato ancora a livello scientifico studiato. Quindi, come accademica, si parlava prima, la cosa importante diventa cercare di dare un quadro teorico di quelle che sono le esperienze che vengono generate. Perché, come sempre, la pratica è più avanti poi della teoria. Quindi, quello che vedrete è un lavoro di razionalizzazione di quelle che sono delle esperienze che sul campo esistono, e che io insieme a un gruppo di ricerca abbiamo studiato, per cercare di andare a definire questo fenomeno, che inizialmente era definito così. Quello che vedete è una definizione di Wikipedia, in realtà non è errata. Wikipedia è uno degli esempi, se possiamo dirlo, di collaborazione, di contributo collaborativo tra degli utenti che insieme creano qualcosa che è poi, in questo caso, la definizione di co-working. Quello che abbiamo fatto, quindi, è stato cercare di strutturare una ricerca che avesse una metodologia sociologica, perché sono una sociologa, che potesse andare ad avvallare quelli che sono i contenuti della ricerca in maniera scientifica, per andare a cercare di capire le caratteristiche di questo fenomeno. La ricerca che si basa su una metodologia che ha tre tipi di tecniche di rilevazione. La prima è stata quella dell'osservazione partecipante, un'osservazione partecipante che mi ha visto presenziare a quasi tutti gli incontri che sono stati fatti dal 2012 in poi sul tema del co-working e dei fab lab. Praticamente sono diventata una della community, anzi spero veramente e vivamente di aprire un co-working a questo punto, perché ci credo talmente tanto. Ho diventata partecipata più che partecipante. Dopodiché, la seconda fase, tra l'altro, c'è il dottorando che sta facendo questa parte di ricerca qua in sala. Se dopo volete fare delle domande a lui su questa parte, può rispondere, perché si è occupato della mappatura e della raccolta di informazioni su tutti i co-working e dei fab lab italiani. Come vedremo, questa è stata una delle risposte necessarie anche allo sviluppo dei co-working, perché finora non c'era un'analisi così approfondita. Nonostante ci fosse la piattaforma di co-working for, che ti dà a livello di collocazione geografica la presenza dei co-working. Se tu li cerchi, come tutti gli ambienti lavorativi sulle pagine gialle, co-working for lo fa lo stesso per i co-working in Italia. Però la mappatura diciamo che ha delle caratteristiche aggiuntive, perché va invece ad analizzare proprio il fenomeno anche in termini di caratteristiche. L'ultima parte è stata quella dei colloqui non standard, che ho svolto per tutta l'Italia. Domani finisco la tre mesi di tutta e forse, nonostante mi manchi ancora un co-working, ma che farò, che è cominciata in Sicilia e finirà appunto questa settimana a Trento. Tutto questo per arrivare poi alla presentazione di quelli che saranno i risultati di una ricerca in un evento che stiamo organizzando con la Fondazione Ivano Barberini per dare i risultati finali di una ricerca, che quindi è stata a livello di raccolta di informazioni, come potete immaginare, molto molto corposa. Quindi quelli che vedete oggi sono in realtà i risultati grezzi di una ricerca che ancora è in itinere, perché come vi dicevo domani sarò a Roveretto e a Trento per fare l'ultimo colloquio informale, che assolutamente dovranno ancora essere analizzati dal punto di vista poi metodologico della parte di analisi dei risultati. Però per oggi ci tenevo, non solo perché collaboro con un mix da un po', ma ci tenevo a portare anche in parte dei risultati della ricerca che comunque avendola fatta in prima persona, volevo presentarvi perché secondo me possono essere interessanti nel vedere come la sharing economy in realtà anche al suo interno può avere delle differenze tra quelli che sono i servizi che propone, perché poi anche nel tempo si struttura e si organizza in maniera diversa in base anche ai profili degli utenti che probabilmente sono diversi dai profili di altri servizi che abbiamo visto presentare, quelli che riguardano più la forma di collaborazione e condivisione dei servizi della sharing economy più dei consumi. Perché qua parliamo comunque di utenti e servizi legati allo stile lavoro. Beh, innanzitutto le dimensioni che sono uscite, osservazione partecipante, sono queste che vedete. Sono delle parole chiave, si diceva, assolutamente in linea con quella che è la trasformazione della società oggi, quindi non soltanto dal punto di vista del lavoro, ma tutto quello che riguarda la società oggi, bene o male, all'interno del co-working trova una corrispondenza, quindi le parole rete, bisogni, intangibilità, passione, metaprodotti, prosumerismo, abbiamo detto coproduzione, la persona al centro, sono tutte parole che all'interno dei convegni, delle conferenze, degli incontri a cui presenziavo, ritornavano fuori tra i co-working. Quindi parole che i co-worker stessi avevano assolutamente inseriti all'interno delle loro comunicazioni fra di loro, che quindi potevano essere quello che era la base del concetto stesso di co-working. Per andare a dare una sorta di slogan, visto che ultimamente si parlava prima di politica, funziona la comunicazione tramite slogan, si potrebbe in generale definire il co-working come uno spazio vivo dove succedono delle cose. È interessante vedere come si apriva il convegno dicendo l'importanza delle persone, beh, lo spazio di co-working viene definito dai co-worker stessi come uno spazio fatto di persone, dove si creano tante opportunità in più. E qui dopo andremo a vedere come il valore aggiunto del co-working sta proprio nella creazione di opportunità. Non è soltanto un posto di lavoro, quindi l'idea dello stile lavorativo, che in realtà va a perdersi come connotazione unica dell'idea di produzione, e quindi andiamo a sfatare anche l'idea di una semplice possibile separazione degli ambiti, di lavoro rispetto a quegli altri di vita quotidiana, ma è un posto di socialità, una parola che tra l'altro è emersa anche durante gli altri interventi, dove si possono trovare stimoli ed occasioni. Bene, allora, intanto partendo da quelle che sono le analisi invece dei colloqui, per andare più sul dettaglio, ora vi darò delle caratteristiche, che ripeto, sono dei risultati grezzi, che poi quando presenteremo la ricerca saranno ulteriormente sviluppati. E tra l'altro il tempo magari non mi permetterà di darne troppi, per cui magari dopo per le domande, se ci sono delle cose che non ho detto e vi interessano, potete chiedermele. Però intanto per iniziare, e questo non perché il mio presidente ha sottolineato prima il fattore che l'età può essere un problema quando si parla di questo nuovo mood del loop, che si ripete continuamente, che questi fenomeni sono per giovani, la nuova generazione che porta avanti questi fenomeni, beh, devo sfatare questo mito, Renzi non me ne vorrà, ma questo assolutamente risulta essere un fenomeno non strettamente giovanile. La questione dell'età non è se la media sia ai 25-45 anni, ma ripeto, in media, nel senso che, anzi, la maggior parte dei co-working manager che ho incontrato hanno un'età superiore, ai 45 anni, ma sono strettamente legati ad altri fattori, cioè i fattori determinanti che legano questo tipo di profilo sono il livello di istruzione, che è sicuramente alta, sono molti laureati, o nella maggioranza laureati, comunque addirittura alcuni dottorandi, ci sono delle differenze paradossalmente nei Fab Lab, per quanto si possa credere, al contrario, nonostante siano luoghi di livello tecnologico alto, ci sono delle persone che in realtà non hanno livelli di istruzione molto alta, ma che hanno appreso le tecniche, tipo, non so, di Arduino o altre tecniche, attraverso i propri corsi che si fanno all'interno dei Fab Lab. Il livello economico è medio, nel senso che comunque non è una questione che viene messa in risalto, sicuramente ci sono molte persone che non hanno la possibilità di aprire uno studio improprio, quindi comunque non a livello alto, se non per la differenza chi apre il co-working, quindi tendenzialmente chi fa attività di investimento e quindi i proprietari del co-working hanno un livello economico più alto. Le caratteristiche invece importanti, ripeto, rispetto invece a quello che si pensa e quindi rispetto al tema della giovane età, sono quelle personali caratteriali. Quello che viene dimostrato è che l'apertura mentale, la propensione al rischio, la curiosità, la disposizione allo stare insieme, al collaborare, alla passione per il lavoro, sono le caratteristiche decisive per entrare a far parte di un mondo nel quale, come si diceva prima, si sceglie di entrare, cioè questi spazi vengono abitati da persone di questo tipo. Non si trovano tendenzialmente soggetti che già predisposti, e questo sarà tra l'altro un mio suggerimento poi ed analisi che ho posto riguardo al tema della cooperazione, non c'è, diciamo, una ricerca di soggetti, ma sono questi soggetti stessi che hanno questa attitudine e quindi si rivolgano allo spazio. Il settore e le professionalità sono delle più diverse, da quelle tradizionali come psicologi, avvocati, ma anche quelle più generamente intese come creative, insomma tutto quello che potete immaginarvi. Ah, c'è anche chi, una ragazza che lavora per una impresa che fa trattori, quindi in senso c'è veramente di tutto dentro. Un'altra caratteristica che è emersa come fondamentale rispetto alla questione dei co-worker è le motivazioni che sono state alla base del lavorare in uno spazio che sicuramente è diverso da quello che tradizionalmente intendiamo come uno spazio di lavoro. Allora, il primo motivo che però è da intendere in maniera critica è il risparmio economico rispetto all'affitto di un ufficio o comunque di un ambiente lavorativo che al singolo potrebbe costare in maniera elevata e che non può permettersi. Questa questione molto spesso porta la comunicazione ai media o comunque nella maggior parte delle volte a intendere che il co-working sia una risposta della crisi o un risultato della crisi come si diceva anche prima. In realtà poi ne parleremo meglio dopo la mia ricerca dà come risultato il fatto che non è assolutamente il co-working una risposta alla crisi. Tanto per buttare lì intanto un sasso la nascita dei co-working che risale al 2004 alla Silicon Valley si diceva le persone che hanno cominciato a lavorare nei co-working in realtà il problema che avevano era che lavoravano troppo c'erano le persone che stavano nei bar non avevano luoghi dove andare sicuramente non avevano quel livello altissimo quel livello alto che si diceva economico per potersi permettere degli uffici singoli ma che comunque collaboravano già tra di loro e che hanno scelto questo come metodologia. Esattamente in Italia Massimo Carraro anche negli articoli nelle interviste che ha fatto quando ha fatto nascere il primo co-woo in Italia quando spiega le motivazioni del perché ha aperto un co-woo racconta della necessità di volere uno spazio di un certo tipo e nella necessità di creare una community quello che è la caratteristica che gli ha spinti a scegliere questo modello rispetto ad altri. L'altra caratteristica fondamentale che emerge dalle interviste di Massimo Carraro è la necessità di rispondere a delle esigenze di mercato quindi il co-working in realtà non è nato non è stato a livello motivazionale come gli altri probabilmente questo a differenza degli altri volevo dire della sharing economy e questo ripeto forse per il profilo delle persone che sono all'interno non è nato in risposta a un'esigenza economica ma è nato a seguito di una trasformazione che come si diceva è profondamente economica e produttiva ci sono dei mezzi di produzione che sono diversi l'utilizzo di internet e della rete ha reso possibile tutto questo la necessità di mobilità ha reso possibile necessario la generazione di spazi di lavoro che non dovessero essere per fossa fissi le persone oggi lavorano e non possono permettersi di pagare un affitto ma non in termini economici non possono non vogliono permettersi di pagare un affitto per magari una giornata di 24 ore di lavoro poiché magari ne lavoreranno 7 in ufficio e altre 7 in giro perché devono parlare con i clienti piuttosto che una settimana magari lavorano a Milano e un'altra settimana lavoreranno a Roma piuttosto che vogliono semplicemente fare attività di altro tipo durante la giornata e vogliono lavorare 8 ore in ufficio quindi la necessità di flessibilità e quindi di risparmiare e non sprecare per l'affitto di uno spazio è stata una delle prime esigenze di generazione di co-working la seconda motivazione è la questione dell'autonomia lavorativo l'espressione non avere più un padrone è una di quelle più sentite all'interno delle interviste che spingono le persone queste non solo giovani a anche addirittura slegarsi da impegni lavorativi pregressi per generare queste forme di lavoro che sono prevalentemente autonomo freelance o in alcuni casi start up l'altra variabile è quella della collaborazione e della relazione l'idea però devo dirvi la verità è quella che nasce successivamente questa motivazione cioè in realtà spesso si entra in un co-working per le prime due e si rimane a lavorare in un co-working e si diventa un fan dei co-working grazie all'esperienza dell'attività all'interno del co-working ho notato che ci sono poche persone che dichiarano di entrare in un co-working subito per questo tipo di motivo l'ultimo come si diceva l'idea di appeal dell'importanza di lavorare in un ambiente piacevole beh l'idea adesso è che sempre di più questi particolari figure di imprenditori di start-up hanno bisogno e necessitano di ambienti di questo tipo l'estetica diventa quindi non soltanto una frivolezza una questione lasciata agli intenditori o a chi se lo può permettere ma diventa una forma il design diventa una forma funzionale rispetto a quella che è la funzionalità degli spazi questa è una cosa fondamentale all'interno dell'idea di co-working co-working che riassumono nella maggior parte l'idea della trasformazione di un lavoro che abbiamo detto si caratterizza per essere fatto di questi co-workers che nella maggior parte dei casi sono imprenditori per scelta e freelance per scelta quindi un altro mito da sfatare questa ricerca ha sfatato molti degli stereotipi negativi che in realtà avevo sul lavoro oggi è quella dell'obbligatorietà per molti giovani di dover fare gli imprenditori o i freelance perché non trovano un lavoro beh nella maggior parte dei casi anzi nel 99% delle interviste nessuno degli intervistati ha dichiarato di non voler cambiare il proprio status la propria condizione lavorativa sono tutti assolutamente convinti che la condizione di freelance di autonomia gli dia dei vantaggi a livello anche di vita e non solo professionali ed economici e non tornerebbero e non cambierebbero verso un lavoro di tempo invece dipendente o determinato quindi io adesso vi illustro velocemente ma ripeto saranno poi cose che nella ricerca che vedrete esposta vedrete più nel dettaglio sono ho cercato di trattare quelle che sono le caratteristiche fondamentali della definizione di co-working allora fondamentalmente i co-working sono spazi fisici quindi come si diceva si esce da quella definizione di valore del digitale del web per ritornare a dare una funzione alla fisicità del luogo sono spazi di lavoro ma non solo si diceva l'importanza della funzione dello spazio quindi in tutti i luoghi di co-working emergono delle aree di socialità e di convivialità sono spazi condivisi quindi assolutamente di sharing perché la logica dell'open space è alla base di questi luoghi sono spazi in cui emergono nuove figure professionali come gli host i community manager community manager offline dei declinati visti che finora erano quelli online sono spazi in cui riesce a coesistere l'autonomia e la libertà insieme all'idea di condivisione associazionismo questo però nell'idea di sharing creando delle nuove forme di mutualità e supporto che superano un po' la definizione di io e di noi che prima veniva classicamente anche diviso in termini di forma di impresa quindi la cooperazione da una parte mentre l'SRL dall'altra cercando invece di creare un nuovo mix perché queste figure si associano in termini fluidi legati a dei valori dei principi piuttosto che dei progetti ma poi anche fluidamente possono lavorare autonomamente dei propri progetti sono ambienti lavorativi che creano vantaggi lavorativi ed economici questo perché perché hanno una community e hanno sono luoghi di facilitazione e di supporto sono luoghi di facilitazione a livello economico e professionale dal punto di vista dei servizi e degli strumenti ma sono anche luoghi di facilitazione in termini di capitale sociale perché hanno una rete relazionale che può generare nuove relazioni economiche e quindi sono forme di si diceva non assistenzialismo ma di empowerment e di trasformazione da funzionalità a capacità sono spazi in cui la dimensione materiale e l'immateriale vengono uniti i makers e i co-worker intellettuali lavorano insieme e anzi progettano insieme co-progettano quindi non vanno soltanto uniti in termini di prodotto queste due dimensioni ma dalla forma di co-progettazione sono spazi in cui si applica una nuova forma di selezione che ripropone l'idea di fiducia e di merito in termini nuovi rispetti a quelli che il mercato liberista aveva finora generato quindi la relazione ti permette di convivere le ore di lavoro e ti permette di vedere come una persona si rapporta ai clienti ai fornitori come lavora e per questo sceglierli sono luoghi di accelerazione di innovazione e sviluppo e per questo creano benefici anche per le aziende che incorporano dei co-working al loro interno o che decidono di gestire sotto forma di co-working la propria forma aziendale sono luoghi in cui le persone esercitano possono usufruire di una formazione continua ottenendo scambi con le altre persone e sono come si diceva Spazzi l'ultima questione sul territorio anche per il co-working vale ad alto impatto territoriale creano sviluppo territoriale hanno i loro membri trovano i loro membri tra gli abitanti del territorio circostante si relazionano ovviamente ai servizi circostanti perché in molti casi creano delle partnership piuttosto che degli scambi in sharing e quindi creano delle forme di engagement multi-stakeholder e delle forme di social share responsibility quindi sono assolutamente i co-working spazi di sharing economy questo per cercare di arrivare a quello che è il tema poi sto quasi per concludere dell'evento di oggi sono sharing economy ma non solo tra i co-workers stessi ma tra i co-working e i co-workers ovviamente perché offrono servizi ma anche tra le retta del territorio perché come abbiamo visto c'è uno scambio effettivo tra quello che è il territorio che all'interno ospita un co-working e i co-working verso il territorio che organizzano eventi si aprono alla cittadinanza e queste sono le dimensioni che ho cercato di fare vedere più facili da identificare come forme di sharing gli spazi servizi le informazioni le collaborazioni ma soprattutto le relazioni fondamentalmente quello di cui si parlava prima la necessità di passare da un'idea di proprietà a un'idea di accesso è quello che anche all'interno del pensiero del co-working si presenta quello che si presenta quindi questo esempio rispecchia quello degli altri è una creazione di un nuovo paradigma socio-economico le interviste confermano il fatto che tutte queste persone non si vedono come delle persone che vanno in quei luoghi per risposta a un momento contingente di crisi ma assolutamente si rivedono come persone che vengono catalizzate da luoghi in cui possono ritrovare altre persone che condividono valori e principi comuni nuovi modi di fare imprese e di vivere la società quindi nuovo paradigma che vede queste parole come fondamentali con da visione collaborazione cooperazione responsabilità partecipazione e scambio il co-working cambia le dinamiche del lavoro e per questo possiamo identificare questo fenomeno non solo come un nuovo stile lavorativo ma come una forma di anche di assolutamente io l'avevo detto che mi dovevate stoppare trasformazione del mercato del lavoro ma l'unica cosa che volevo queste sono tutte cose che infatti vi ho messo qua che vedrete poi quando organizzeremo l'evento che sono da esplodere l'unica cosa su cui se posso mi soffermo perché magari non è stato fatto negli altri interventi e invece è presente nella ricerca e può essere utile perché parliamo di cooperazione io da giovane nuova entrata nel mondo cooperativo mi sono posta spesso molto in maniera entusiasta sulla domanda su come mai queste realtà come quelle della sharing economy che presentano il livello la forma più vicina secondo me quella della cooperazione non venivano poi in realtà strutturate in forma giuridica cooperativa beh i problemi che sono nati e su questo le butto lì poi magari ci sarà chi dovrà prendersi carico se vorrà di queste riflessioni sono la questione burocratica quindi la percezione che SRL è l'impresa più snella e pratica per aprire un'impresa anche più economica non risulta conosciuto il modello cooperativo nella sua specificità quindi spesso viene assolutamente avvicinato a quello associativo non viene distinto in alcuni alcuni casi ritengono che il modello cooperativo sia vittima di forme di clientelismo o comunque sia legato alla politica da cui si vuole distanziare enormemente e per ultimo la legame tra i soci viene visto come troppo forte rispetto a un legame più labile che si vuole lasciare fra i co-worker queste sono proposte che io ho avanzato sul termine della cooperazione vi ringrazio e spero che veniate poi all'evento per anche cercare di sviluppare quei punti che non siamo riusciti a sviluppare oggi grazie 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 grazie